Eccoci che unico ragazzi allora, benvenuti in questo nuovo video dedicato questa volta non al calciomercato ma solo ed esclusivamente all'ambiente giallorosso Di solito non faccio mai richieste di questo tipo, però vi chiedo alla fine di questo video, se sarete d'accordo con la mia opinione, di condividerlo su tutti i social possibili Voglio che questo video venga visto il più possibile, non perché ci devo guadagnare qualcosa, perché con YouTube sapete non è che ci si può vivere quantomeno se si è sui miei livelli Ma per far capire alla maggior parte della tifoseria determinate cose e per evitare soprattutto delle polemiche non solo inutili ma anche fastidiose Quindi se alla fine di questo video pensate, oh, sto gladiatore c'ha ragione, condividetelo in giro, voglio che venga ascoltato questo messaggio il più possibile Non si fa neanche in tempo ad iniziare, non riesce neanche a partire, neanche ad accendere i motori la nuova Roma di Friedkin e subito i tifosi cominciano a lamentarsi Leggono i giornali, vedono gli articoli, vedono che la squadra A è interessata a Tizio, la squadra B è interessata a Caio La Roma invece rimane un po' nell'anonimato, con pochi giocatori effettivamente trattati e pochissime manovre di mercato, sia in entrata che in uscita E molti già stanno dicendo, eh, ma questo si presenta così, si vede che agli americani importa poco delle società italiane, importa poco di Roma Questo è un altro farloccone, cominciamo bene, ancora abbiamo preso solo Pedro che è un vecchio fallito Poi nel secondo video di giornata parliamo mai di questa cosa La mentele continua su qualsiasi cosa che ci fanno capire Uno, quanto il periodo con Pallotta abbia praticamente depresso tutta la tifoseria E due, quanto siamo rompicoglioni Ecco, scusate il termine, scusate il francesismo, ma in certi casi deve essere usato Quello che molti non capiscono è che questa dirigenza, queste nuove società, queste nuove Friedkin, figlio & company, eccetera, eccetera Per colpa del Covid hanno dovuto rallentare l'acquisizione societaria L'affare, se non ci fossero stati problemi, si sarebbe anche potuto concretizzare verso aprile, massimo maggio Purtroppo, per forza di cose, in quel momento la Roma ha calato il suo valore Friedkin ha fatto un'offerta che in quel momento a Pallotta non soddisfava Pallotta E potrete dirgli quello che vi pare, ma è anche giusto che decida io che valore dare ad un mio bene, ad un qualcosa di cui sono proprietario La cosa si è livellata nel tempo, sono dovute passare le settimane È stata dovuta riformulare una nuova offerta, Pallotta l'ha dovuta riconsiderare E l'affare conclusivo è stato fatto solamente poche settimane fa Pochi giorni prima, anzi il giorno, diciamo, dell'ultima partita della scorsa stagione Tutti quanti sapete che la prossima inizierà tra poche settimane Quindi già solo questo dovrebbe farvi pensare che non è facile con un'acquisizione societaria tardiva Fare subito quello che si vuole Molti pensano che prendere una società sia come se tu vai al bar Gli dici prendo un estatè, un pacco di patatine con lo stemma Roma Paghi, te la danno e dopo con quello puoi farci quello che ti pare No, non funziona così Io parlo da ignoranti in materia, sia chiaro E non è che io so bene con tutte le manovre che bisogna fare per un'acquisizione societaria e tutto Ma voi pensate veramente che dal giorno alla notte questi prendono la società Che tra l'altro sta uscendo dalla borsa E il giorno dopo mettono su un piatto, su un tavolino 600 milioni, oh posto, adesso prendete Tizio, Caio e Semproni Prendete questo, quell'altro, facciamo una rosa di fenomeni e bla 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 Voi pensate veramente che questi in un giorno riescono a fare quello che voi, quello che in realtà si fa in anni Voi in un giorno volete quello che una persona normale fa in anni Ma questo lasciamo perdere A parte il rallentamento societario che ha influito per forza di cose al completamento della cessione della società Molti non pensano minimamente alla rosa attuale della Roma Friedkin può avere anche i soldi, può anche dare un importante budget al nostro direttore sportivo Che tra l'altro ancora deve essere cercato e questo è un problema non da poco Ma voi provate un pochino a ragionare, provate un pochino a ragionare Qualche giorno fa, credo ieri, Massimo l'altro ieri È stata ufficializzata la lista dei convocati per la preparazione estiva della Roma Sapete quanti giocatori ci sono in questa lista? 20? 25? 30? 35! 35 giocatori attualmente nella rosa della Roma E voi pensate che questi debbano all'improvviso prendere 6-7 giocatori fenomenali e rendere la rosa forte Ma pensate veramente che sia così facile? Pensate veramente che bastava qualche sessione di mercato Per liberarci di tutti quei giocatori che attualmente abbiamo sul groppone? Fonseca secondo me ha convocato tutti proprio per far capire che effettivamente siamo in troppi E ditemi se questa non è una motivazione del fatto che non possiamo attualmente prendere tanti giocatori Non perché non abbiamo i soldi ma 1 perché la cessione societaria è stata fatta per forza di cose più tardi del previsto E 2 attualmente abbiamo in rosa così tanti giocatori che non possiamo permetterci di prenderne altri 5-6 Fare una rosa di 40 persone e stipendiare praticamente 3 squadre in una Non possiamo, non ce lo possiamo permettere Anche le società più importanti, anche i shake e tutto Non è che prendono 60-70 giocatori solo perché se lo possono permettere Serve un pochino di ordine all'interno della rosa Non si può pensare che tu puoi iniziare la stagione con 40 giocatori a prendere lo stipendio È una cosa infattibile Per questo motivo prima bisogna pensare alle cessioni e poi eventualmente agli acquisti Io ve lo dico tranquillamente Per me se la Roma quest'anno riesce a prendere Smalling, Torreira e un vicegeco, magari Milik Per me siamo a posto Poi magari certo si può ragionare sul fatto che la rosa non è completa e non sarebbe così tanto migliore rispetto all'anno prossimo Ma vi ripeto, con così poco tempo a disposizione E ricordate, rispetto alle altre squadre noi abbiamo avuto un cambio societario Che non è una cosa che si fa in un giorno È normale che ora come ora le altre squadre si stiano rinforzando Stanno facendo manovre diverse e noi stiamo in attesa Perché purtroppo abbiamo troppi, scusate il gioco di parole, giocatori che sono sul groppone I vari Perotti, i vari Pastore, i vari One Jesus Tutti quei giocatori che sono rientrati dai prestiti, Kars, Dorp, Schick Sono talmente tanti giocatori che la Roma non può pensare di fare acquisti Se prima non si è liberata di questi giocatori Che in alcuni casi prendono uno stipendio parecchio elevato Per quanto riguarda, cioè paragonato al valore che hanno E a quel contributo che hanno dato di recente alla Roma Come può la Roma prendere un altro difensore se ha ancora One Jesus, Fazio, compagnia bella Come può pensare di prendere un attaccante se prima non si è liberato di Schick E questo è il fulcro del discorso Quando la Roma sarà sui 24-25 giocatori Allora si può pensare a fare i rinforzi lì, i rinforzi là C'è di questo, c'è di quell'altro, fai su e fai giù Ma ora come ora, aspettarsi che in una settimana Con il calcio mercato che tra l'altro non è ancora iniziato Questo molti non se lo ricordano Aspettarsi che la Roma prenda Cavani, Suarez, Tizio, Caio Tutti i fenomeni migliori del mondo Ragazzi andateci piano Lasciate a questa società la calma e la pazienza per poter lavorare in pace Fateli lavorare in tranquillità Per me, ve l'ho detto, l'importante ora come ora è cedere gli esuberi Poi, una volta ceduti e una volta liberati del suo cartellino, del loro ingaggio, di questo e quell'altro Si può ragionare per il futuro È come se noi avessimo un male Adesso non dico proprio, cioè non voglio fare proprio un paragone esagerato Per noi è come se avessimo un male che prima deve essere tolto Poi puoi andare avanti, poi puoi migliorare e tutte le cose possono andare meglio Ma nella situazione attuale la Roma non può fare grandissimi acquisti, grandissime cose Questo non ci impedisce di poterlo fare nel lungo periodo Questo assolutamente no Io sono convinto che Friedkin abbia la liquidità necessaria Per poter appunto rendere la Roma una squadra forte su ogni reparto Ma pretendere che oggi, al 27 agosto, la Roma tratti i migliori giocatori del mondo Spenda decine, decine, decine di milioni Quando ancora abbiamo 35 giocatori nella rosa attuale È veramente assurdo Cioè mi dà fastidio perché queste persone neanche ragionano Ma sparano sentenze a caso Scrivono già i primi commenti di polemica e questo e quell'altro Ma ragionate un pochino Ragionate Io non sono nessuno, non è che insegno niente a nessuno Sono un ragazzo di 25, quasi 26 anni Che fa video dentro la macchina in un parcheggio della copp Non sono nessuno, non so, sono una persona normale Però quando succedono queste cose Un minimo ci ragiono Un minimo capisco È vero, anche a me dà fastidio vedere che Che ne so, che la Juve su Cavani Che l'Inter messi e questo e quell'altro E noi ancora poco e niente Ma poi ci ragiono, penso Cavolo, la società è stata ufficializzata due settimane fa neanche Abbiamo talmente tanti giocatori da cedere Che non si può pensare di avere una rosa di 40 passaggiocatori Allora capisco Cioè invece di scrivere subito Eh Friedkin, l'ennesimo americano fallito Eh non prendiamo nessuno Eh facciamo schifo Con questa rosa arriviamo ottavi Arriviamo decimi Siamo arrivati quinti l'anno scorso Cioè non è che siamo arrivati quindicesimi con sta rosa Tanto per Subito spara sentenze Ma ragionate un pochino Capite il perché la Roma Ora come ora non può fare chissà cosa Non abbiamo neanche il direttore sportivo Come pensate che noi adesso facciamo acquisti di grande livello Per poter fare chissà quale rosa È normale Ora la situazione è così Dobbiamo solo pazientare Quando cominceremo pian piano a cedere tutti questi esuberi che stanno qua Sarà difficile perché comunque la crisi del calcio ha colpito tutti E se non si abbassano un po' lo stipendio Rimarranno qua fino alla fine Maledetti E questa è una cosa che mi dà fastidio perché sì A livello legale possono farlo Ma a livello umano Non è così tanto positivo per la tua squadra Rimanere qua a fare la muffa Capito mi riferisco a gente come Perotti e Juan Jesus Considerate da molti grandi professionisti Anche da me sia chiaro Però cari miei Se voi non giocate mai Giocate dieci partite all'anno E prendete un stipendio così importante Lo sapete meglio di noi Che siete un peso per la Roma Quindi se siete tanto riconoscenti per i nostri colori Come alcuni tifosi lo sono per voi Allora ve ne andate a giocare in un'altra parte Prendete anche un pochino di meno Ma almeno date un minimo di senso alle vostre ultime anni di carriera Però effettivamente il contratto ce l'hanno Quindi decidono loro cosa fare Però la riconoscenza si può dimostrare Anche facendo capire alla tua squadra Che non sei più parte del progetto Lasciamo veramente perdere Comunque ragazzi allora io spero che abbiate capito il mio discorso Non ci vuole tanto a capirlo Non ci vuole tanto a pensare Perché effettivamente la Roma vive una sorta di immobilismo È stato preso Pedro che è un buonissimo l'incalzo davanti La cosa importante è tenere i giocatori fondamentali Cedere gli esuberi e prendere quei piccoli giocatori Che potrebbero migliorare la rosa Serve un vicegeco e su questo siamo tutti d'accordo Serve un centrocampista e su questo siamo d'accordo Serve smalling in difesa e su questo siamo d'accordo Ma finito questo per me la Roma Deve dare principalmente spazio alle cessioni Fatte quelle si può programmare il futuro Fatta una rosa con un numero decente di giocatori Si potrà pensare al renderla forte a livello tecnico Ma ora come ora chiedere queste cose A una società che si è appena insediata È semplicemente ridicolo E non sento di aggiungere altro Un saluto dal vostro gladiatore giallorosso Ci vediamo più tardi per un secondo video Sempre polemico Oggi mi va di polemizzare ma vabbè lasciamo perdere Un saluto e sempre e comunque Forza Roma Ciao ragazzi Ciao ragazzi